Ma ciao e ben ritrovati su Dark Souls 3. Allora ragazzi, per quanto possa sembrare autentico questo inizio, è falso. Il motivo è perché la PS4, per qualche oscuro motivo, per la prima volta in diretta tv, mi ha mandato appuntare solo l'inizio. E quindi sarò costretto da rifarlo e cerco di farlo il più autentico possibile. Qui c'è Frost Paradoxon? No. Ma qua c'è IRXFuge. Ma sta gente, ma sta gente da dove cazzo arriva? Dall'Afghanistan? Con tutti sti nomi. Eh, sì, la solita palla di scheletri che gira. Comunque, non ci saranno gli oggetti, ma vi dirò cosa c'era lì. Bene o male. Eh, ma eh sì. Io volevo andare a rifugiarmi in uno di sti buchi qua. Invece, invece, passa di nuovo l'autobus degli scheletri. Qua c'erano le classiche pantagani di Venezia. Eh, che cavolo! T'affermo! Oh, questo... Ah, no, è un fantasma! Vedo, che cazzare è questo oggetto che non l'ho preso? Ah, è un fantasma, ecco. Qui c'è il classico topo gigante madre di topi di tutte le fogne di tutti i paesi del mondo. Questo qui... Doppio! Non me l'aspettavo! Come dicevo, nell'altro... Bella, volevo spagarlo apposta. Qui attenti, state in movimento perché ci saranno dei... Dove? Dove... Qui, ecco. Qui vai. E ti cade un budino in testa. Tipo questo qua. Ah, e ci sono anche gli scheletri che fanno un gran premio simulator. Con la ruota di scorta. Cioè, sono la ruota di scorta, però qualcosa è andato storto. E quindi cercano in tutti i modi di raggiungere le loro rispettive auto rotolando. Comunque, c'è la leggenda... Eh, che cavolo, ma fermati! Vedete che è un... Bella l'accelerazione, ma brutta la frenata. C'è la leggenda che dice che sti qua, difficili, molto difficilmente, ti droppino il loro scudo di... Il loro ruota. Che può fungere da scudo. Scudo grana, addirittura. Qualcuno, qualcuno osa dire che è addirittura buono come scudo. Sta fermo qui. Sappiamo che... Droppa, droppa, droppa. No. Mi dispiace. Però mi ha perso vita cazzeggiando, eh? Lì in fondo c'è un oggetto... La gran anima di guerriero sfinito. Torna tu... Eh, eh, vabbè, stavolta mi ha preso. Questa volta mi ha preso. Sto diventando... Mi ha inglobato un budino, perfetto. E via. Miuller di sto cazzo. Via. E non fate come me. Rotolate che non vi prenderanno... Ah già. Ho l'anello delle rotolate invisibili che aumenta la destrezza. Figo. Faigo cioè. Non male. Per se volete. Col pvp è una roba... Meno peso avete. E più faigo è. Perché sarete tipo... Una specie di sanica che... Che sguizza di qua e di là senza essere visto. Qui... C'era una... Classica schifosissima... Putrefosissima... Brace. E subito dopo... Vi invaderà lo spirito scuro di Zorig che l'ammazza cavalieri. Che gli ho già fatto il culo. Ed ecco qua il suo anello. Anello del selvaggio Zorig che l'ammazza cavalieri. Molto tempo fa Zorig sfidò i guardiani di un'antica città in un duello all'ultimo sangue. E in uscì vittorioso. Questo anello l'ho strappato dalle loro dita smembrate e fu il suo premio. Appunto selvaggio. Descrizione dell'NPC. Un'armatura... L'armatura di ferro nero dell'1. Mio Dio la vita che mi passa davanti agli occhi. Dicevo. Cos'è che stavo dicendo? Ah giusto. Il scudo grande. Scudo di ferro nero. Quello la grande. E spadone della nebbia che c'era nel due. Però questo qua non fa danni da fuoco. Qui c'è un... C'è un cosplayer di Naruto. Da come vedete. Che sguizza di quelli là. Wow. Sì sì ok. Tutto figo. Tutto figo. Però adesso devo bere la Esus eh. Vieni qui. Guarda. No no. Una volta ce l'avevo fatta. Ce l'avevo fatta. Vi giuro. Che ce l'avevo fatta. Non ve lo posso... No. 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 Stammi lontano. Stammi lontano. Sanguinamento. Sanguinamento. Ti lo spacco in faccia. Ti spacco la bocca. No peccato. Dai. Dai. Stai f... Di dietro la colore. Che combattimento. Ha più equilibrio questo qui di Tzorig. No veramente Tzorig con una spadata lo stordi. A meno che non stessi caricando un attacco. Lo stordi e... Permesso. Fanculo. Oh ce l'ho fatto. Pah. Nel... Ok. E li faceva male. Ah già è uno scherzo. Non gli fa male lì sotto. Non sai... Ah. E però sto qua aveva gli occhi bianchi quindi... Eh. Un secondo. Wow. No che brutto. Voglio... Non ho mai usato... Mai. Mai usato le abilità. Tranne che... Ah. Devo cominciare... No 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 no. Sento le vibrazioni del joystick. Ma io ho il gioco in muto attualmente. Perché sennò viene fuori un eco disturbante come avete visto nei vecchi episodi di tutto. Ma proprio tutto. Ah. Altro... Altro punto importantissimo. Qui... Qua mi sembra... C'erano... C'erano c'erano c'erano... Dove 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 dove... Era importanti importanti... Eccolo qua. Ceneri guardiano della cripta. L'ancella... Che tracche... C'è nero scuro del guardiano della cripta delle catacome di Cartus. Come uno solo. Vedete che c'è un pugnale lì. Per me da l'ancella sì. Il vecchio iniziò come scudiero portando le bardature del proprio padrone. Continua a farlo ancora oggi. Che è diventato un guardiano della cripta. Ma non è... Non è morto se ha le cenere. Scusa. Vabbè. Tutta l'or che si potrà approfondire con... Con gentaglia. Dai vieni qui. Vieni. Dai. Cazzo. Ah ce li adoppi. Ecco perché... Oh con calma. E va bene ma si sto quasi in mente a fare swash swash. Guardate. Tu se scrivi. Lui ti fa un... Eh? Volevi e... Ma che cazzo è sta roba? Ma che... Io? Ma che cazzo... Ma fermo lì. Oh. Dai fammi... Fammi... Ti sfido. Fammi di nuovo l'attacco in salto. Oh vedi 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 che c'è se è cagata addosso quando glielo chiedi. Cos'è? Frammento di titanità. È sempre utile. La spada di loter che l'ho portata a più 5. Perché altro non posso fare. A meno che... No proprio niente. Qua c'è uno... C'è uno... Uno scaretro con un cappello bello. Cappello bello. Dire un dire un dire un d'erondello. Credo facesse così. Questo qui è il miglior... Il miglior sniper di sempre. Guarda che... Guarda guarda. Guarda gli stai vicino. Gli stai vicino. Perfetto. Avevo letto 2.900. Oh che cazzo è sono OP? Ti prendo corpo. Qui ho trovato... Tre belletti di Carthus. Che da come... Eh stai attendo a trappola ci sono arrivato. Che danno le armi sanguinalente. Come quei bastardi che hanno le catane doppie. Che in PvP porca puttana io gli rintraccio e gli spacco la bocca. Non è possibile. Sono dei... Sono lo schifo del PvP. Perché tu non puoi competere con loro. Punto e basta. A meno che tu non fai i peri. Cioè non io. Che io non li so fare. Sì l'ho fatto una volta prima. Ma... Ma per i prossimi... 5 episodi non ne vedrete altri. Oppure no. Questo qui... Ah questo qua è lo spadone pesante. Lo spadone di Carthus. Con il belletto compreso nel pacchetto... Nel pacchetto all inclusive. Eh vedete... Vedete che aveva già il belletto. Qua c'era un oggetto che non mi ricordo. No ma non era... Ci non era un oggetto tipo spada indistruttibile. Ammazzascheletri. Dei draghi più 5. No era un oggetto della pippa. Qua se scalate la montagna, il sentiero dritto circolando dalla strada Titti. Troverete niente meno... Niente po' di meno che... Henry. Che si è spostata quando noi siamo andati al falò. Penso. Ora dove sei... Sì. Mi ha forse abbandonato. Che pensiero tremendo. Non dire niente. Che cazzo devo dirti? Vallo a cercare. Sì. In realtà diceva una roba... Beh. Diceva la stessa roba che c'hai detto l'altra volta. L'hai visto? Ehm... No. Sarà già uscito dalle catacome. Ma scusa. Ma vuoi che sia così stronto ad andarsene senza venire a cercarti? Ehm... Cioè. Quindi o lo vai a cercare anche tu. Oppure... Ah. Ehm... Via via al ponte. Via al ponte. Ora... Oh no adesso. Mi guardo. Mi godo. Ciao. Porca. Erano determinati sti qua. Hanno fatto una rincorsa che mannaggia... Mannaggia a loro. Busa in volta e impaledisce. La zona segreta era infatti qua giù. Qua giù sotto. Ma... Ma quale? 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 Maledetto dipendente della From Software ha ideato sta roba. Guardate come scende. Confica le mani nel legno del ponte e scende giù. Ma che cazzo? Ma scusa. Ma... Mi rifiuto. Ma uno come cazzo ci arriva senza wiki? Io ce l'ho arrivato con la wiki. Io ho finito il gioco e ho detto. Ma scusa. Ma dove cazzo è sto posto qui? Ehm... E quando il ponte si spacca devi andare giù. Ah. Come? Ok. Ora dopo questa per... Questa grande perla comincerà il vero episodio. Cioè quello là che... Non ho perso. Quindi... Vi dico ciao da dopo... Da dopo che l'ho registrato eh. Quindi godetevi il doppiaggio originale. Allora ricapitoliamo un attimo. Sono morto... Non sono morto per la fiammata. Ma sono morto perché sono caduto da un gradino. Capito? 99% fiammata. L'ultimo 1%. Un gradino. E vabbè cosa è? Ma che è? Il fuoco... Avete visto il fuoco che andava in basso? Che cosa è? Te l'hai guidato? Ancora? E basta con questi... Toh. Io ti avevo... Tu non sei nuovo a me. Io ti avevo già visto. Ho un'idea. Trucchetto che ho imparato da una... Da una persona che probabilmente conoscerete molto. Eh... Se giocate a Dark Souls. Perché l'ho chiamato così? Andate giù. Chiamate tutti... I... Chiamate tutti i papairo sense. E i loro... I loro parenti. A combattere questa bestiaccia. Che tanto non si piacciono. Sono passato attraverso la... Fuori dal coglio. È lui... È lui il tuo nemico. Che cazzo vuoi? E volevo farti anche un pari ma... E vabbè. Tempismo. Ancora. E vabbè. No. Adesso vado giù con lui eh. Giù. Lo faccio eh. Lo faccio. Non mi ammazzerete voi. Mi ammazzerà lui se devo morire. Beh però danno glielo fanno. Glielo fanno eh. Io ho un rotolicchio in giro. Guarda. Guarda che brutta persona. No. No. È diventato... Vi ricordate l'episodio? È diventato l'ustionato alfa. Che si... Che sta facendo? Io che sto cominciando a spaventarmi. Ha fatto un... Ha fatto una roba tipo... Fa un culo il mondo. Boom. E tira... Sta mirando a me. Sta mirando a me. Sta decisamente mirando a me. Mi ha fatto un male che... Ciao. Che cavo? Che cosa vuoi? Sono gli scheletri dei tuoi nemici. Sono morti in tutti. Bene ma non benissimo. No ok ok. Sto arrivando. Sto arrivando eh. Uoppela. Adesso come si batte un boss narsus? Uh. Girando lì intorno. Crepa ci sono... La mia vita... La mia vita è... Mi è passata... Crepa porca puttina. Oh. È vivo eh. Ma che... Che cosa... È successo? È stato uno scontro da fare. L'unico problema è che io resuscito. E lui no. Forse. Ah. Non è... Non è resuscitato. L'orifichiamoci un po' con l'anima. Anima del sangue di lupo. Ah giusto. Quella là dei cosi. Come si chiama? Ah i guardiani dell'abisso. Giusto giusto giusto. Eh. Usa la... Sangue di lupo. Affortunati guardiani. E quei anime sono tutt'una. Con quella del suo unico padrò. Avete capito chi no? Artorias. Comun... Allora. Anima di un demone. Un animo corrotta. Fin qua ci sia. Fin qua è tu tu te. Due corrotte. I demoni sono andati dalla fiamma del caos. Ma la fiamma stessa non è sempre vissuta. Ed essi sono ormai in vita estinzione. Come è giusto che siano. Penso... Non so... È una frase razzista contro i demoni questa qua. Stai attendo a trappola. Ci è arrivato. Volevo farlo. Prima che quel... Quel... Quell'ustionato mi colpì. Ma da quant'è che non ne vedo uno? Almeno... Wow. Abilità. Mi raccomando. Wow. Da quant'è che non ne vedo uno? In azione. Di Mimic. No veramente è tanto è. Vai voi... Cioè nel... Nel... Come cazzo si chiama? Nella serie. Da un po' che non ne troviamo. O forse sono io che non ne ho trovati. Ma dubito. Sono piuttosto resistenti. Sì. Questo glielo concedo. La maniera. Ah però. La maniera. Mi interessa. Una katana... Una corretta katana. Utilizzata da uno spadaccino. Inospite di Volnir. Il signore supremo. La lama nera. E scintilante. È più spessa e corta di quella di una normale katana. La maestria dello spadaccino nell'uso di questa katana si riflette nell'arco potente dell'arma. Ma... Beh però è più spessa e corta. Però sanguinamente lo fa lo stesso. Ma spessa nel senso... Spessa di taglio o spessa di... Di larghezza? Cioè come faccio a spiegarlo? Perché sono cose davvero differenti. Un conto è... Cioè un martello è spesso di punta. Una... Una... Un'ascia è spessa di larghezza. E vi ho chiarito l'idea eh? Ma questi papai roschi non lo smettono di risuscitare? Eh? Volete che richiamo il demone? Non è morto sto qua oh. No eh? Ora si che ci carico un affondo potentino. Minchia. Shottato? Questi qua ci faccio una run? Oh no? Vi ce ne sono troppi per fare una run. Ma... E chi c'è dietro le mie spalle? No nessuno. Di solito c'è sempre qualcuno alle spalle con... Con di solito una spada grande come una colonna che te lo piazza. Fermento grande di titan... Sì ho detto no non faccio la run. Ma sto cazzo via! Ma via subito! Dai prima che arrivino! Dai! Qua che c'è? Che c'è? Prende l'oggetto via 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 via! Ebbene del vecchio... Ma quanti ce ne sono! Fuori! Dov'è il mio falò? Voglio il mio falò! Backstab? Backstab? Dov'è il mio backstab? Dov'è il mio backstab? Turbine di lame? No non lo posso usare! Mi sa che finché sono nella zona del falò non li posso... Ok... Sto quasi cagato in mano perché ho ucciso due dei suoi. E quindi ha detto lasciamolo in faccia. Ma tanto non sopravviveranno allo stesso... So! Oh! Risuscita! Ti sfido a risuscitare! Hai fatto bene a risuscitare! Comunque lorifichiamoci un po' di nuovo su... Dov'è? Dov'è la pena delle chissaggi? Ho capo di vestiare dei pieromanti delle grandi palude. Che posto di merda! Tipico di particolare... In particolare delle chissaggi. La pena impedisce la luce di passare permettendo di percepire la vera e sinta della pieromanzia. La fiamma che tutto rivela e tutto nasconde. Bene... Non ho nulla da dire perché... Non c'è niente da dire. E poi l'anello... 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 Mi sono già dimenticato il nome? Della strega. Potenzia notevolmente le pieromanzie. Io non le... Tipo la palla di fuoco che ha fatto schifo! Non devo uno scheletro. La strega di Isalit... Di Isalit... Isali... Come si pronuncia? Le sue figlie imbracciate dalla fiamma del caos insegnarono agli umani l'arte della pieromanzia e regalarono loro questo anello. Potenzia. Sì, l'ho appena detto. Ogni pieromante conosce bene la storia delle streghe e di come esse insegnarono la pieromanzia agli uomini nella speranza che imparassero a temere e infine controllare le fiamme. Mi sto tipo ficcando il dito sulla gola per vedere come cambia la gola. ma sono sicuro che non mi interessa. Comunque questa qui è la zona segreta che non è finita qui, eh? Perché c'è tutta una zona da esplorare qui. Che dove era due o addirittura tre episodi, cioè ci allungheremo troppo. E comunque spero che il video vi sia piaciuto. Così quasi vado a uscire uno scheletro scudate. L'ho già fatto in un episodio. Solo che non era uno scheletro. Proviamo. Sono qui. No, no, no. I loro sguardi non mi sono piaciuti per niente. Verano... Verano... Mi sono... Ho preso una paura che vuoi tipo... Arrivo... Vedete uno sto qua che arriva con uno scudo così? Con... Proprio gli occhi bianchi che risplendevano. Ho detto... Cazzo... Via. Via. Vabbè... Vabbè... Poi delle cazzate... Sì, appunto. Spero che il video vi sia piaciuto. E continuate a seguire la serie. Wow. Ciao a tutti.